Joachim è nei guai. Ieri Joachim non è venuto a scuola e oggi è arrivato tardi. Aveva una faccia scocciatissima e noi siamo rimasti tutti a bocca aperta. Non perché era arrivato tardi ed era scocciato. Infatti Joachim quando viene a scuola un sacco di volte arriva tardi ed è sempre scocciato, specialmente quando c'è il compito di grammatica. La cosa che ci ha colpito è che la maestra gli ha fatto un grande sorriso e gli ha detto congratulazioni Joachim, sei contento vero? Noi eravamo sempre più sbalorditi perché la maestra altre volte è stata gentile con Joachim. Lei è troppo fantastica e gentile con tutti però non le ha mai e poi mai detto congratulazioni. Joachim di questa cosa non sembrava tanto contento. Infatti è andato a sedersi al banco vicino a Maxent che era sempre scocciatissimo. Noi ci siamo girati tutti a guardarlo ma la maestra ha battuto con il righello sulla cattedra e ci ha detto che non dovevamo distrarci. Dovevamo pensare ai fatti nostri e copiare quello che c'era scritto alla lavagna e senza errori, mi raccomando. Poi dietro di me ho sentito la voce di Jeffrey. Joachim ha avuto un fratellino, basta parola. A ricreazione ci siamo messi tutti intorno a Joachim. Lui stava appoggiato al muro con le mani in tasca e gli abbiamo chiesto se era vero che aveva avuto un fratellino. Già, ci ha detto Joachim, ieri mattina. Papà mi ha svegliato, era tutto vestito e non si era fatto la barba, rideva. Mi ha dato un bacio e mi ha detto che la notte era arrivato un fratellino. Poi mi ha detto che dovevo vestirmi di corsa. Siamo andati in ospedale e lì c'era la mamma. Era a letto ma aveva la faccia contenta come papà e vicino al letto c'era il fratellino. E beh, ho detto io, non sembri mica tanto contento. E perché devo essere contento? Ha detto Joachim. Per prima cosa? E lui è bruttissimo. È piccolo piccolo, tutto rosso e strilla sempre. E tutti questa cosa la trovano divertente. A me quando grido un po' a casa dicono subito che devo stare zitto. E poi papà mi dice che sono un imbecile e che gli rompo i timpani. Sì, lo so, ha detto Rufus. Anche io ho un fratellino e succede sempre il finimondo. Lui è il cocco di mamma e può fare tutto. E se lo picchio glielo va a dire a mamma e papà e loro mi dicono niente cinema questo sabato. Per me è l'incontrario, ha detto Eudes. Io ho un fratello grande e lui è il cocco di mamma. Dice sempre che sono io a fare un putiferio, però lui mi picchia e può restare a guardare la tv fino a tardi e può pure fumare. Da quando è arrivato il fratellino tutti mi dicono cosa devo fare, ha detto Joachim. All'ospedale mamma ha detto che dovevo dargli un bacio al fratellino e a me non andava per niente, è chiaro, ma l'ho fatto lo stesso e papà si è messo a urlare che dovevo stare attento, se no rovesciavo la culla. Non aveva mai visto un imbranato come me. Che mangiano quelli così piccoli? Ha chiesto al sesto. Dopo, ha detto Joachim, io e papà siamo tornati a casa. Ed è tristissimo a casa senza mamma, che poi è stato papà a preparare il pranzo. Si è arrabbiato perché non trovava la priscatole. Poi abbiamo mangiato solo sardine e un mucchietto di piselli. E stamattina a colazione papà se l'è presa con me perché era uscito fuori il latte. E vedrai dopo, ha detto Rufus. All'inizio, quando lo riportano a casa, lui va nella camera dei tuoi genitori, però poi te lo piazzano in camera tua ed ogni volta che si mette a piangere pensano che sei stato tu che gli hai fatto un dispetto. A casa mio, mio fratello grande dorme con me nella mia camera, ha detto Eudes. E non è troppo una pizza, tranne quando ero piccolo, un sacco di tempo fa quel pagliaccio si divertiva a mettermi paura. Ah no, ha urlato Joachim, può fare quello che gli pare, ma dormire in camera mia non ce lo voglio. La mia camera è mia, può benissimo trovarsene un'altra se vuole dormire a casa. Ah, può, ha detto Maxent, se i tuoi genitori dicono che il fratellino deve dormire in camera tua, lui dorme in camera tua, punto e basta. Nemmeno per sogno, ha urlato Joachim, lo mettono a dormire dove gli pare, ma non da me, mi chiudo dentro, ma scherziamo? Sono buone le sardine con i piselli, ha chiesto a Sest. Il pomeriggio, ha detto Joachim, papà mi ha riportato in ospedale e c'era zio Octave, zia Edith, poi zia Lidì e tutti dicevano che il fratellino assomigliava a un mucchio di gente, a papà, a mamma, a zia Octave, a zia Edith, a zia Lidì e pure a me. E poi mi hanno detto che dovevo, devo essere un sacco contento e ora devo fare sempre il bravo, aiutare mamma a studiare e poi studiare tanto a scuola. E papà ha detto che spera che io mi impegnerò perché fino adesso sono stato solo un somaro e invece devo diventare un esempio per il fratellino e poi dopo si sono scordati di me tranne mamma e lei mi ha dato un bacio e mi ha detto che mi vuole bene come al fratellino. Ehi ragazzi, ha detto Jeffrey, facciamo una partita a calcio prima che finisce la ricreazione. Ehi senti qua, ha detto Rufus, quando vuoi uscire per andare a giocare con i tuoi amici ti dicono che devi restare a casa a guardare il fratellino. Ah sì? Ma scherziamo, quello si guarda da solo, ha detto Joachim. Dopotutto a lui non l'ha chiamato nessuno e io vado a giocare tutte le volte che mi pare. Succede sempre un putiferio, ha detto Rufus e poi ti dicono che sei geloso. Che cosa ha urlato Joachim? Questa è bella. Allora Joachim ha detto che lui non era geloso. Eravamo tonte a dire così. Chi se ne importava del fratellino? Lui voleva solo che nessuno lo disturbava o veniva a dormire in camera sua e che nessuno gli diceva che non poteva andare a giocare con gli amici. Lui li odiava i cocchi di mamma e se quello scocciava beh, lui scappava di casa. Così vedevano chi si scocciava. Solo potevano tenere i loro leons. Quando lui se ne andava di sicuro tutti lo rimpiangevano, soprattutto quando la sua mamma e il suo papà venivano a sapere che era diventato capitano su una nave da guerra e guadagnava un sacco di soldi. E comunque era stufo della scuola e di casa. Lui non aveva bisogno di nessuno. Tutto questo lo faceva solo sbellicare dalle risate. Chi è leons? Ha chiesto Clotère. È il mio fratellino, ha risposto Joachim. Oh, che brutto nome! Ha detto Clotère. Allora Joachim si è lanciato su Clotère e gli ha mollato un mucchio di sbelle e ci ha detto che se è una cosa che non possiamo fare è insultare la sua famiglia.